Prendevano a costa, e io dovevo stare a casa. Avevamo 36 cavalli, ci erano questi cavalli che avevano i cocchieri, facevano i cocchieri, i berlandini in Piemonte, i taxisti di una volta. Il Consiglio regionale ha avviato una collaborazione con Memoro, la banca della memoria Onglus, e lancia una campagna per raccogliere videotestimonianze raccontate da uomini e donne che vivono in Piemonte, nati prima del 1950. Avevano le carrozze scoperte per l'estate, le carrozze chiuse per l'inverno, si stavano a Porta Nuova, ai treni, e portavano un mondo dove volevano. Poi questi numeri, il mio zio aveva il numero 21, l'altro aveva il numero 14, questi numeri sono venduti poi per avere i taxi, li hanno poi venduti, i taxisti li hanno poi comprati, ogni due numeri ne davano le tassi. Se ti è piaciuto questo racconto e voglia di raccontare il lavoro che facevi tanti anni fa, puoi telefonare allo 011 020 3800, sia che tu abbia una videointervista o che la voglia realizzare. La tua storia diventerà patrimonio della memoria, patrimonio di tutti.